Quest'anno, il 7 ottobre, è Biodomenica, giornata dedicata all'agricoltura e all'alimentazione biologica promossa da IAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, in collaborazione con Coldiretti e Legambiente. Le aziende del biologico incontreranno i cittadini nelle principali piazze italiane per presentare il meglio della produzione biologica, con degustazioni enogastronomiche, laboratori, dibattiti, workshop e mostre informative. Tra le novità di questa edizione, le officine del bio, per sperimentare da vicino le tecniche produttive e le pratiche a basso impatto utilizzate dall'agricoltura biologica. Benessere umano, ambientale e animale, saranno i temi al centro della tredicesima edizione. Per saperne di più, vai su biodomenica.it Grazie a tutti!